Francesco Cavallaro ai domiciliari dopo la condanna in primo grado a 15 anni per l'omicidio del pastore Salvatore Buda. E' stato arrestato ieri sera per spaccio, il servizio di Maria Bella. Dovrà rispondere di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti il trentenne Francesco Cavallaro, finito in manette ieri sera al termine di un blitz dei carabinieri della compagna di Giarre nell'abitazione dell'uomo. Quando i militari dell'arma sono giunti in via Romagna a Giarre, qualcuno dall'interno della casa ha cercato di disfarsi, gettandole dalla finestra di 13 dosi di cocaina avvolte in un involucro. Ma la scena è stata notata dai carabinieri che le hanno recuperate. In casa trovati anche 3.000 euro in contanti, sequestrati poiché considerati frutto dell'attività di spaccio. Ritenute nella disponibilità dell'uomo altre 5 dosi di polvere bianca nascoste in un vaso collocato fuori dalla porta d'ingresso. Ma nel palazzo sono stati trovati complessivamente nel vano e nei binari dell'ascensore, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco di riposto, 600 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina, 35 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e alcuni foglietti in cui erano annotati nomi e relative cifre. Una sorta di foglio contabile. Francesco Cavallaro, detenuto ai domiciliari dopo la condanna in primo grado a 15 anni per l'omicidio del pastore di Calatabiano, Salvatore Buda, era stato arrestato sempre per detenzione e spaccio di droga lo scorso giugno. L'uomo era poi stato sottoposto nuovamente ai domiciliari. Questa volta il magistrato di turno ha disposto il trasferimento in carcere. L'arresto di Cavallaro, che avrebbe dovuto comparire stamani proprio nel processo d'appello dell'omicidio Buda, ha fatto slittare la requisitora del procuratore generale Concetta Maria Ledda.